E' il momento della votazione, il Vice Presidente Vicario del Comitato mi ha chiesto di fare per alzata di mano, quindi io a tutti voi farò tre domande e queste domande alzerete la mano per esprimere il vostro voto. Quindi, chi è favorevole affinché Santino lo presti venga eletto Presidente del Comitato regionale Sicilia, alzi la mano! Passate, 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 ci sono voti contrari? No. Ci sono astenuti? No. Santino lo presti, ha nominato! E' letto per acclamazione il nuovo Presidente della Lega Sicula di Calcio e Santino Lopresti a Grigentino. Succede a Sandro Morgana. Presenti per l'occasione il Presidente nazionale della FIGC Carlo Tavecchio, il massimo esponente della Lega Nazionale di Lettanti Felice Belloli e i delegati delle società calcistiche siciliane. Massiccio al San Michele di Caltanissetta anche il numero di tecnici e atleti del calcio isolano. Io saluto il Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, il Dottore Carlo Tavecchio per essere qui con noi stasera. Nonostante i tantissimi impegni, il Presidente Tavecchio alle 12 era la Papa in udienza, ha preso meglio alle due e mezza perché voleva essere presente alla nostra assemblea. Il Presidente Tavecchio, da sempre un amico del Comitato regionale Sicilia, ha avuto un ruolo importante, importantissimo, senza il suo aiuto non saremmo riusciti a realizzare la sede che stiamo costruendo in quasi ultimata a Ficarazzi. Il Presidente Tavecchio è stato capace di comprendere il contesto economico della nostra Sicilia attuando flessibilità e comprensione nei confronti delle società. Come sta il nostro calcio? Il nostro calcio per me sta bene, abbiamo un grosso incremento sempre nel settore giovanile, dobbiamo crederci, se no, ripeto l'ho detto prima, mi ripeto, sono noioso, se non cresce il settore giovanile il nostro calcio finisce. Presidente, come vede il futuro del calcio siciliano alla luce di queste elezioni? Le elezioni? Santino Ropresti è una persona molto preparata, conosce il sistema da tanto, ha avuto responsabilità nazionali, non credo che ci siano problemi. Tanto i progetti sono attuali, noi dobbiamo fare il gol non gol subito. Poi abbiamo interessato la FIFA per un'operazione che riguardava un più ampio respiro sulle righe dell'area grande, già sarebbe un'attenzione se fosse presa in considerazione, comunque noi col primo di luglio avremo il gol non gol.